Drammatico ritrovamento questa mattina a Paternò in via Pola. Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione. Secondo le prime informazioni dell'uomo non si avevano notizie già da qualche giorno e questa mattina ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati i vicini di casa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, i quali una volta entrati in casa hanno trovato purtroppo l'uomo a terra privo di vita. Il decesso con molta probabilità sarebbe avvenuto per cause naturali. L'uomo pare fosse malato da tempo. Intervenuti sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Paternò. Questi ultimi hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.